che problema c'è? non riesco a capire ho come paura cioè ho paura che come se qualcuno entrasse nella mia macchina di notte o quando io non ci sono non riesco a capire cosa è successo cioè perché? perché? c'è il sedile del passeggero non quello dove mi siedo io l'altro di fianco tutto pieno di briciole come di biscotti e magari la scatola è di vuota e anche lì e anche lì c'è lì anche anche la scatola vuota ci penso ci penso ci penso non riesco a capire perché? perché c'è le briciole e c'è anche la scatola vuota hanno lasciato anche la scatola per far vedere che biscotti erano tu hai idea? eh no da qui non senti nessuno che magari entra a mangiare? no 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 io quando dormo dormo non sento nessuno no nessun problema metterò una telecamera nascosta io ho sempre le labbra secche adesso ho sempre sete ho sempre sete come un biscotto? se ho già la bocca secca mi dai un biscotto ho già ho già fatto tanti di quei disastri che stamattina ho già riuscire a scappato al latte e il manno no il linguaggio è tutto sporco adesso scappato al latte ho girato un attimo e lui che bella giornata oggi è il sole gente andate a fare una bella passeggiata io ma voglio andare a fare una bella passeggiata oggi, giro in giro un pochino, giro in giro la casa